si qualche string oh easy peasy lemon squeezy io mi rifiuto mi rifiuto sinceramente di fare sta cosa cosa? che non ha senso cosa? gente che dice easy peasy lemon squeezy io mi scollo non l'ho metta io sta frase si ma io mi scollego quando sento certe cose è bellissima ehi possiamo creare un altro coso è un telefono che rompe le balle però non è un problema potete creare un telefono che rompe le balle no possiamo creare un nuovo jerry jerry la mazzatopi oh no aspetta non era così ma non sparano le pecore beh ci impiegheranno un po' presumo jerry il terzo aspetta il protettore quando vuole lui c'è quasi mai ari che urla e rompe le palle questa puntata si chiama perni il cacciatore perchè perchè perni oh io perchè gli alberi spaurano rand no gli alberi spaurano quando tu ci passi sotto si è vero perchè dicono oh c'è john ericione no si io me ne vado mi spiace per te no anche lui ha letto non chiedere il serve non tanto non sono cerni ehm allora mi serve mi serve mi serve ehm non esplodere giuro che ti sai che non funziona quei creeper ehm lo sterminatore non funziona quei creeper evidentemente ha paura dei creeper ehi ehi venite qui farsa 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 spara 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 aspetta un perry appena ucciso un altro perry no what the fuck non voleva andare al palcoscenico tutto per se può essere e ora un perry se ne sta strafottendo del fa ah forse hanno un tempo di ricarica what the fuck non dovrebbe e invece ce l'hanno ti devi aspetta no aspetta trovo basso no che fai evito che diventi ghiaccio la parte centrale non diventa ghiaccio ecco fatto e sai qual'è la novità ahah posso spawnare un nuovo perry no non c'era con gli altri si no è molto probabile proprio per quello voglio dividerli pescato un pesce eh ma non abbiamo più legno ne ho due io tu proprio no no vabbè ce ne ho un po' non tanto però 16 ok questo dovrebbero bastare 20 faccio 20 non è divisibile per 6 vero? no secondo te? non lo so se te lo chiedo no mi serve no mettiamo giù un po' di legno e 2 snow flakes gun flakes? no snow flakes sono nuovi guardali fai fateli fuori tutti sono nuovi cose che hanno il minecraft è vecchio non è aggiornato siete delle bestie guardalo sta uccidendo un ragno è appena caduto e lui se ne sbatte altamente le balle sei un grande dove? non tu non ti aspetto che abbocca anche da questa parte della città chi è capace? buongiorno saldo merda come sta? ho appena fatto un errore oddio mi hai fatto vedere un colpo sto pescando che diavolo c'hai uno stick in mano? sto pescando ah bene in effetti si c'è il filo aspetta eccolo qua mi mando a bocca ok tira hai appena staccato un melon seeds hai appena staccato un melon seeds guarda aio ahahahah sei un genio sei un genio sei un genio sei un genio l'unica persona in grado di staccare melon seeds con una canna da pesce c'è un pesce oddio che culo ho tirato indietro la canna a cazzo e ho preso un pesce buon per te io sto facendo woohoo parkour proprio di quello estremo per creare uno snow un snowcoso ehi ehi mob mob fuoco è caduto fuoco fatelo fuori voglio vedere le sue carni marcere all'inferno ok do pescare io sto dividendo i snowflex in settori dito dito sentire il numero della foto che scende ma va a cagare no ah no no son pieno di roba importante non mi colpire dimmi quando si spee si spee vabbè hai capito certo dimmi quando si spee dimmi quando si abbassa un po' c'è un creeper dietro di te c'è un creeper dietro di te che bello far prendere i colpi alla gente puoi dire se abbassa l'amonti costa tanto ma faccia saperlo lol guarda l'amo hai spaccato qualcos'altro dov'è eeeh oddio hai preso una torcia si ehi sono in mezzo alle palle non riesco a settare sto cazzo di oh no non riesco a stare sott'acqua oh quanto incapace olèh cinque pesci dobbiamo prendere 10 ah c'è proprio se ah non lo sapevo tanto cibo a noi non serve moriamo talmente tante volte infatti scusa perchè c'è questa parete non serve ah boll è fatta tu non io ah intanto io sistemo un po' la casa dai a boccate fa veramente vomitare così senza offesa per john però è fatta tu appunto e dai e va a tirare le palle si mette da posto la casa non riesco a tirare sto cazzo di amo come si deve ehi ti piace così ti piace così è epica eeeh va bene va bene è bellissima è forse la miglior casa che mi sia mai uscita tanto per dirvi il livello delle mie case a bocca è bellissima aspetta a bocca glowstone glowstone vuoi a boccare abbiamo un achievement con le glowstone per caso mmm beh a vedere ah ti vado a vedere ti dico io adesso dai a bocca cazzo no a bocca no a bocca oh allora make an infinite water source make 20 torches 20 questi abbiamo fatti tutti craft a furnace make a small lake build a platform of 24 blocks away ok make 10 cactus green dye 10 mushroom stew 10 jack o lanterns 10 bread 10 under purse 10 fish 10 black wool 10 grey wool light wool 20 paintings light and another portal 5 gold d gold ignox non so come faremo a fare i gold ignox ma fa niente io si io si e come? praticamente andiamo nel letter creiamo una piattaforma più lontano spawnano i pigmen uccidiamo i pigmen ci danno tipo i nuggets e dai nuggets facciamo gli ingots ti ho spiegato ti ho spiegato abbastanza bene si me li sono ricordato 16 glass panels fatti 50 burst logs non so cosa siano 64 arrows and craft a bow ok 10 stone buttons vabbè si possono fare 10 si 30 no non c'è niente con i cosi perfetto beh tanto li avevo già usati guarda la casa oh l'avevo tolto oh e che diavolo perchè c'è un motivo molto semplice per cui lo faccio non è che lo faccio perchè mi gira ma più che altro perchè mi fa laggare non chiedetemi come ma la neve mi fa laggare molto di più dell'acqua l'acqua ancora ancora ha da sopporto ma la neve è ok ah merda vogliamo dire qualcosa a vedere le nostre prossime serie future no non voglio dire niente rimarrà un segreto soprattutto perchè non ne ho la più pallida idea comunque rimarrà un segreto no 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 ho buttato giù la canna da pesca con l'acqua che testo di cazzo senza offesa eh però die abbiamo otto pesci vado di stazza infinita ce ne mancano due cazzo cazzo volentieri crafta i pesci forza su volentieri volentieri al lavoro ma stai zitto cazzo 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 no davvero ci vediamo alla prossima puntata scusa cos'è che tu non sapevi cosa erano i birchlog eh sono questi cioè sono i legnetti che lasciano questi legno bianco ah e dove hai preso quel sublingio? era dentro nella cesta del nether ah allora c'è stato un senso quelli che troviamo qua non dobbiamo craftarli questi qua quali? questi qua non dobbiamo craftarli questo legno qua ah perchè lo vuoi tenere? e dobbiamo farla achievement ho capito o non si possono usare anche se dobbiamo farla achievement no si invece no vabbè ci vediamo alla prossima sessione di registrazione dalla giornata e tutto e ci ciao ciao bene da john è tutto proseguiremo noi due fammi finire devo finire tipo devo fare il giro della casa con la stone poi ho finito poi possiamo anche ah si concludi random chissenefrega no possiamo anche riprendere l'anno prossimo però prima devo finire sta cosa no anche l'anno prossimo beh tanto non è che manca molto manca un mese all'anno prossimo più o meno no 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 ok no seriamente tu cosa ti sei fumato oggi ahahah ma mi diverso dal dare in giro ho perso un po' di cobblestone qualche birch qualche birch qualche birch ho perso qualche cosa random qualche birch arrivo aspettami no no non posso andare da no no ahahahah rimarrai lì pesce ero bloccato anche se non mettevi questa lo sai ah beh c'hai ragione ahia malvagio ah fuck aiutami no stavo finendo questa cosa qua lo sai fammi finire di lavorare ehm uno due tre ne mancano quattro quasi finito quattro ehm colpo di tosse comunque è epica così questa casa ehm sto morendo ehm non ho abbastanza carbone stamina no stamina c'è no secondo te non ho stamina no uff 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 te ne vado in troppo bonfrey bonfrey a voi queste parole non vogliono dire nulla più o meno credo ma per me è un colpo al cuore ogni volta che le sento perchè lui non hai la più pallida idea di che cosa stia cantando io so sicuro che dice bonfrey dopo ti do le lyrics e ne riparliamo ok ho finito ho fatto anche un piccolo portico per i fumatori sei un fumatore? no ah ok allora non serve beh potremmo ospitare Roby si Roby è un fumatore merda perchè cado solo io e lui si salva stavo per finire nella lava e sono pieno di roba beh pieno di roba ho tutte tipo le torce cosa gli faccio ok dopo questa piccola iperventilazione direi che possiamo anche concludere vuoi concludere se o no? hai finito di girare in giro? girare in giro levati da davanti sto morendo no seriamente basta dai no quindi direi che aspetta vado a vedere se sono spawnate pecore tan 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 ecco qualcosa in mano papà sì no tu non hai niente in mano come no? c'ho un osso guarda due osso è vero ah li ho appena troppati ahah vendetta muori 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 ah la tua clava non fa un cazzo di danno metà e vince quanta vita avevi? metà ma come metà? la tua clava non fa un cazzo di danno mia povera clava Wilma dammi la clava Wilma dammi la clava ahhh vendetta vendetta vero non filo in galera maximum power si vabbè ma io laggo ah mi hai messo il laggo ottimo per vince yeee questo è stato epico ok basta mi ho fatto a farti volare giù e perchè io laggo e quindi tipo i tuoi colpi si sommano e mi hai fatto un disco per il tipo che neanche una spada con il prodotto e 4 no credo che il massimo di nocvec guarda uuuuh ti so ti sembrano acci hai ragione tutto ci vediamo alla prossima puntata di schermocca la mia serie questo qui è un ok buca questo, ti sfido ti sfidi seriamente? sai che potrei farlo però come fai? sentiamo creative non so che cosa succede se lo spacco oh se non ti smuvi a chiudere la registrazione e chiude il server ok ho fatto fatto no in realtà manca metà casa però va bene così quindi da aria e giovane e tutto ci vediamo anche una aspetta lascio giù tutto perché oggi sono spawnato e tipo son morto però vabbè non avevi niente perché l'altro giorno ti sei buttato non ti ricordi ok quindi da aria e giovane è tutto ci vediamo ad una prossima puntata sessioni di registrazione o cose simili di skyblock beh ragazzi buona domenica buona domenica no credo che questo video uscirà tipo di martedì o qualcosa del genere quindi ci vediamo ad una prossima puntata bye bye ciao